Noi chiediamo a chi di dovere e alle istituzioni che facciano un po' più controlli sui demani, dove il signor Affreddo dichiara che lui non ha vincolo di tenere neanche un dipendente alla concessione che gli è stata data. Sono tanti gli striscioni di protesta fissi fuori la sede del cantiere navale Postiglioni a Baia. Sono gli operai dell'azienda che esprimono così il loro malcontento per le scelte effettuate dalla società. Il 17 settembre scorso, infatti, lo stesso giorno in cui scadeva il periodo di cassa integrazione, sei dipendenti su dodici venivano licenziati. È tanta la rabbia di questi ormai ex lavoratori che per anni gli sono dati animo e corpo all'azienda e che vedono ora tutti i loro sforzi buttati al vento. Un licenziamento che, secondo Giovanni Esposito, operai e rappresentante sindacale, è su base discriminatoria e non su base di anzianità di servizio. Sono decisi dunque a muoversi, ad andare fino in fondo a questa faccenda agli ex operai del cantiere, che accusano la società preseduta da Alfredo Amato di voler gestire il demanio con meno gente possibile. Noi stiamo protestando per questi sei licenziamenti senza giusta causa, a nostro giudizio, perché abbiamo prove dove abbiamo denunciato a Guardi Finanze e alla Procura della Repubblica che questi signori vogliono gestire il demanio con meno forza possibile di operai. E quindi praticamente noi abbiamo documentato che di queste persone che eravamo a cassa integrazione lui li sostituiva con personale, con contratti a Coco Pro, Progett, eccetera, eccetera. Di cui non sotto forze a Postiglione, ma come prestazioni di mano d'opera con ditte che fanno capo sempre al signor Alfredo Amato. Dal canto suo l'azienda, nella persona di Roberto Spina, componente del Consiglio d'Amministrazione, il quale non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai nostri microfoni, si dice dispiaciuta dell'accaduto e che questa è una scelta detta esclusivamente dal momento di crisi del settore nautico, che una volta finita darà la possibilità alla società di poter riassumere personale. L'azienda tende a sottolineare inoltre che si sta attivando per la risoluzione del problema sia cercando di poter riassumere una delle sei persone licenziate, sia chiedendo aiuto al Comune attraverso la concessione di un parcheggio estivo che potrebbe dar possibilità di lavoro agli altri operai licenziati. Nonostante ciò, gli ex lavoratori continuano con la loro protesta. Non ci stanno a questo trattamento. Purtroppo, al giorno d'oggi, storie come quelle del cantiere Postiglione diventano sempre più comuni. La speranza è quella di poter ridare a queste persone il diritto ad un lavoro onesto e retribuito.